Ciao, il mio nome è Andrea Adriani e sono uno studente al primo anno di dottorato all'Insubria in informatica e matematica del calcolo e al momento mi occupo di studiare analisi su grafi e discretizzazione di equazioni differenziali. Suona un po' cattivo ma non lo è così tanto, è abbastanza divertente. Il mio percorso triennale è stato caratterizzato da ottimi rapporti umani sia tra colleghi che con i docenti che sono clamorosamente aperti al dialogo e al confronto con gli studenti. L'ambiente sereno e molto aperto all'aiuto reciproco mi ha convinto totalmente a proseguire il percorso anche durante la magistrale in matematica senza alcun tipo di rimpianto. Soprattutto l'attenzione dell'università al singolo individuo secondo me è uno dei principali punti di forza che veramente permette di avere la massima crescita sia personale che culturale durante il percorso e credo di aver avuto qui all'insubrio alcuni degli anni più significativi della mia vita.